Bene, qui al Festival dei Due Mondi, una mostra in contemporanea con il Festival dei Due Mondi, una mostra sul movimento della luce. In questo momento, fra l'altro, annunciamo ai telespettatori anche una cosa molto importante. In questo caso Gianmarco Puntelli non è solo il curatore di questa mostra, qui in contemporanea col Festival dei Due Mondi, ma come direttore artistico delle mostre del premio Pizzo Musolino, vicino a Reggio Calabria, annunciamo in questo modo anche la nostra mostra che verrà fatta il 27. Infatti il prossimo 27 luglio saremo nella città di Pizzo, ospiti, in modo tale da presentare il Movimento sulla Luce. Il Movimento sulla Luce che ha preso via il Festival dei Due Mondi, con Giuseppe Menozzi, la luce nella dimensione del sacro, Roberto Tigelli, con Roberto Tigelli abbiamo lo studio sulla luce in senso quasi fisico-naturalista, Domenico Monteforte, la luce nel paesaggio e quindi lo studio del paesaggio come metafora, e Armando Cosomo, la luce che entra nella vita quotidiana di tutti i giorni, la luce che entra nella storia e la vita cambia. Quindi di fronte ad un mondo dove la crisi ci annuncia decadenza, quattro artisti trovano la responsabilità per fare, quattro artisti non solo di grande qualità ma anche di grandissime affermazioni. Il CAM, copertina del catalogo Arte Moderna e Contemporanea, Giuseppe Menozzi, presente nella Pinacoteca Monumentale di Firenze e della Regione Toscana, Roberto Tigelli, artista leader a Trieste, l'anno scorso mostra in contemporanea con il premio Bancarella, Domenico Monteforte, reduce dal successo di San Francisco, Armando Cosomo, grande scoperta al Museo Goguidi, trovano la voglia di fare anche un passo indietro nelle loro rispettive situazioni e professionalità pittoriche per fare uno studio insieme, per lavorare sul mondo della luce, la luce come tema di grandissima elezione da sempre nella storia dell'arte e quindi un passo indietro per in realtà fare un passo avanti, uno scatto avanti. Ed ecco perché questa luce parla di rievoluzione, l'evoluzione nella storia dell'arte nasce da sempre, da grandi movimenti nasce da sempre da studio sulla luce, dall'impressionismo al futurismo in realtà parlavano di qualcosa che aveva a che fare con la luce, tutto questo per poter portare dai singoli artisti luce in tempi contemporanei che sembrano bui per l'economia e allora a questo punto l'arte e la luce ci vengono a portare conforto, sostegno e soprattutto rievoluzione. Quindi l'appuntamento è per il 27 di luglio, Pizzo, Città di Pizzo, premio Pizzo Musolino, appunto in questa splendida cittadina, in una splendida location, il movimento sulla luce a cura di Gianmarco Puntelli, il direttore artistico delle mostre del premio Pizzo Musolino, il movimento sulla luce, Giuseppe Menozzi, Roberto Tigelli, Domenico Monteforte, Armando Cusomo.